Poracci, bentornati sul mio canale, anzi forse dovrei dire benvenuti visto che negli ultimi giorni sono arrivati tantissimi iscritti. Per chi fosse nuovo in questa serie di videoacquisti condivido le aggiunte più recenti alla mia collezione dei videogiochi, parlandovi brevemente dei titoli che ho recuperato e cercando di capire se c'è un filo logico dietro a tutte queste compere oppure se mi sono fatto prendere dall'acquisto compulsivo. Tra l'altro oggi vi voglio super attenti perché svelerò cos'è quella misteriosa periferica che avete visto sia nella copertina del video sia nei community post e vi voglio agguerriti nei commenti, voglio assolutamente sapere se avete indovinato di cosa si trattava. Prima di iniziare come al solito vi invito a lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche se siete nuovi per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Partiamo con un acquisto che risale al lontanissimo 2015 perché è finalmente arrivata la copia in edizione limitata di Shenmue 3 riservata a chi aveva preso parte alla campagna Kickstarter del progetto. Sono felicissimo di aver preso parte a questo progetto e anche se ci ha voluta un'eternità per ricevere le prime ricompense, tra cui anche questa maglietta, devo dire che ne è valsa la pena e lo rifarei. Questa è un'edizione standard per PlayStation 4 e questa è la parte esclusiva dell'edizione. Tra l'altro penso che questa qua la terrò sigillata perché dispongo già di un'altra versione, che è quella di Limited Run Games, di cui ho già fatto l'unboxing qua sul canale. Poi proseguiamo con un titolo minore che si aggiunge alla mia corposa collezione di giochi per Nintendo Switch, di cui ho fatto un recap il mese scorso e vi lascio il link in descrizione per andarla a recuperare. E si tratta di Cinemora X, uno shoot'em up a scorrimento orizzontale che sono curiosissimo di provare perché nello sviluppo sono coinvolti Grasshopper Studios, che è il team capitanato da Suda51, che è uno dei miei game designer preferiti in assoluto. La confezione del gioco, come da tradizione Switch, non include assolutamente nulla che non sia la cartuccia e mette un po' tristezza, ma che ci vogliamo fare? Il gioco in realtà è disponibile per tantissime piattaforme, ma mi faceva piacere averlo per Nintendo Switch. Rimaniamo in zona Nintendo, ma andiamo indietro di una generazione di console, arriviamo quindi alla Wii U, e ho recuperato da GameStop, a una sciocchezza, 10€, Captain Toad Treasure Tracker, iniezione italiana Triangolo Blu. Eccola qui. Il gioco è un simpatico puzzle game sviluppato da un'idea apparsa in un minigioco all'interno di Super Mario 3D World. Esiste anche per Nintendo Switch in un'edizione ampliata e migliorata, con qualche livello extra, ma c'è una differenza di prezzo sostanziale, per 10€, insomma, per me va benissimo anche la versione originale e liscia. Comunque, se non l'avete mai giocato o per Wii U o per Switch, vi consiglio di recuperarlo perché è un puzzle game veramente divertente. E ancora più indietro, questa volta arrivando fino alla Wii, storica console di Nintendo che fece il botto, abbiamo questa volta un altro gioco in edizione italiana, Triangolo Blu, e si tratta di Puzzle Quest Challenge of the Warlords. Eccolo qua. Allora, un gioco di cui probabilmente si ricorderanno in pochi, ma che all'epoca ebbe un discreto successo, il gioco è del 2007, fu convertito più o meno per qualsiasi console e si tratta sostanzialmente di un ibrido stra-particolare perché unisce a un impianto ludico tipico dei JRPG quello dei puzzle game. Infatti, la base è proprio quello del gioco di ruolo, ma i combattimenti in realtà sono delle rivisitazioni di Bejeweled, quindi una sorta di Tetris. Detto così, so che non suona benissimo e soprattutto l'art style non è che convinca più di tanto, è abbastanza generico, ma vi assicuro che la fusione di due stili così differenti in realtà funziona benissimo. E sono molto curioso di provarlo, tra l'altro edizione italiana completissima e si aggiunge alla mia collezione Wii di tutto rispetto. Finito l'angolino Nintendo, passiamo alle console portatili e parliamo di Sony, perché finalmente, Poracci, ho il mio primo titolo per PS Vita e si tratta di Tiraway, il messaggero di carta. Allora, questo qua è un platform carinissimo e coloratissimo dai creatori di LittleBigPlanet, Media Molecule, che recentemente si sono imbarcati in un'altra impresa che è quella di Dreams. Non ho nulla per PS Vita, questo qua è il primo gioco che compro, non ho neanche la console, ma volevo iniziare a avvicinarmi al mondo della seconda portatile di casa Sony e ho pensato che, siccome mi è capitato proprio per due spicci questo gioco, Tiraway fosse il portale d'accesso perfetto, perché in realtà si tratta di un platform pensato per sfruttare al 100% le caratteristiche del sistema di controllo della PS Vita. Quindi non solo è un platform divertente e da giocare se vi piace il genere, ma in più è il perfetto esempio di tutte le potenzialità della console ingiustamente dimenticata da Sony stessa. E' sempre in casa Sony, ma questa volta è una console che ebbe tantissimo successo rispetto a PS Vita, sto parlando di PSP e del primo Final Fantasy uscito originariamente su Nintendo, su NES. Questa è una versione rivista e corretta del primissimo capitolo, la saga storica di JRPG in versione PAL europea, non PAL italiana, completa di tutto. In realtà non è la prima edizione che ho di questo gioco, perché vi faccio vedere, ne ho già la versione per Game Boy Advance, Dawn of Souls, che racchiude sia il primo che il secondo episodio, ma mi faceva piacere averla perché in realtà questa qua è un'edizione ampliata e corretta in tutto e per tutto. Se già quella per Game Boy Advance era un porting che aumentava di parecchio il contenuto del gioco originale, questo qua non solo aggiunge una grafica in 2D ad alta definizione, almeno per l'epoca, ma anche i filmati fatti in computer grafica. Poi lo sapete, sono un super appassionato della serie, gli artwork di Amano mi fanno impazzire e quando si tratta di Final Fantasy devo assolutamente recuperare tutto quello che è uscito per la serie. Piano piano, senza alcuna fretta, ma sono felice di aver recuperato questo gioco che, ragazzi, non è comunissimo, soprattutto in queste ottime condizioni. E invece ritorniamo dalle parti di Nintendo per un gioco sempre per console portatile, per Game Boy Advance, ma in versione giapponese. Sto parlando dello sconosciutissimo Napoleon. Prima di parlare del gioco vi prego di ammirare che razza di figata sono le custodie di cartone del Game Boy Advance in versione giapponese. Il gioco è un GDR tattico in stile Fire Emblem, soltanto ha, diciamo, delle pretese storiche, perché giocheremo nei panni di Napoleone al comando dell'armata rivoluzionaria contro gli inglesi. Ora dite, ah che bello, posso imparare la storia con questo gioco? Sì e no, perché in realtà molte missioni ci vedranno combattere creature demoniache come orchi e mostri delle nevi. Quindi non so, fossi in voi io non studierei la storia su un gioco per Game Boy Advance. Comunque il titolo è completo di tutto. Abbiamo la cartuccia con la plastichina, portacartuccia di cartone e poi i vari opuscoli, foglietti delle avvertenze e libretto delle istruzioni. Ora direte, ma Poro Michele, ma come fai a giocarlo? È solo in giapponese. Non so il giapponese, probabilmente non potrò giocarlo, ma l'ho comprato perché in realtà, ragazzi, l'unica altra edizione disponibile è l'edizione europea in francese. E tanto per non saper parlare il francese, nonostante abbia vissuto in Francia per sette mesi e non saper parlare in giapponese, alla fine l'ho preso in giapponese. E ora finite le console portatili da bravo fanboy Nintendo. Ecco un bel lotto di cinque titoli per PlayStation 3. Si tratta di tre multipiattaforma e di due esclusive. Piano piano sto recuperando tantissimi giochi per questa console che, diciamo, probabilmente è stata la PlayStation più sfortunata di tutte quante. E per quanto riguarda il multipiattaforma, iniziamo con The Darkness, un FPS dai toni molto dark che giocai all'epoca su Xbox 360, che mi piacque tantissimo e sono felice di aver recuperato in edizione italiana completa di tutto. E sostanzialmente è un FPS abbastanza classico, però alle classiche dinamiche da la sparatoria unisce anche i poteri della tenebra, che è questa entità demoniaca che si fonde con il personaggio e che gli garantisce dei poteri sovrannaturali che gli permetteranno di squartare i nemici e ammazzarli in tutti i modi possibili eccetera eccetera. Ed è una bellissima storia di vendetta, mi piacque tantissimo. È basato tra l'altro su un fumetto semi sconosciuto in Italia. Esiste anche un seguito, ma non l'ho mai giocato. Altro titolo multipiattaforma, Dark Souls 2, secondo episodio della trilogia che ha consacrato From Software nell'Olimpo delle grandi software house giapponesi. Non sono un amante dei Souls-like, tra l'altro vi voglio fare un regalo, avete un bellissimo codice da riscattare sullo store di Bandai, fate ciò che credete sia meglio. Dicevo, non sono un amante dei Souls-like, però gli sforzi di From Software, piano piano li voglio recuperare tutti quanti, non sono facilissimi da reperire e chissà, prima o poi lo giocherò. La cosa divertente, non posso farvela vedere, ma all'interno del libretto di istruzioni, in condizioni perfette, era presente anche la ricevuta d'acquisto su Amazon, che ora giro, con tutti i dati personali dell'acquirente originale che comprò il gioco nel lontano 8 marzo 2014, alla modica cifra di 56,42€. Complimenti, soprattutto per la conservazione di qualsiasi cosa relativa all'acquisto. E poi per finire con questi multipiattaforma su PlayStation 3, un altro gioco con la di Dead Space, che non ho mai giocato e che voglio assolutamente recuperare, perché si tratta sostanzialmente di un gioco che nel 2007 rivitalizzò completamente il genere dei survival horror. E fa piacere poi che fu uno studio, ora defunto, Visceral Games occidentale, a rilanciare un genere solitamente dominato da software house nipponiche. Tra l'altro sono felicissimo di aver recuperato, a parte una versione in condizioni eccellenti, ma soprattutto la versione italiana perché, come potete leggere dalla copertina, che c'è un quote di Dario Argento, il gioco più terrificante dell'anno, il gioco nella nostra edizione, nella nostra lingua, conteneva un cameo del maestro dell'horror di Dario Argento, a cui gli fu affidato un ruolo di doppiare un personaggio, un comprimario, e il risultato fu semplicemente agghiacciante, un vero orrore, ma non per l'orrore che ti aspetti da un gioco horror. Ecco, diciamo così, fu una vera monnezza, come diciamo a Roma. Finiti in multiplattaforma, passiamo invece ai titoli in esclusiva per la PS3, ed abbiamo Resistance Fall of Man, gioco del 2006, anche questo è un FPS, a cura di Insomniac Games, che sono gli autori di Ratchet & Clank e anche del recentissimo Marvel Spider-Man, che aprirono la stagione della PlayStation 3 appunto con una nuova proprietà intellettuale, questo Resistance, che era un FPS ambientato in una realtà alternativa, dove negli anni 50 gli umani si trovavano a fronteggiare un'invasione aliena di questa razza chiamata Chimera, e il gioco era molto interessante, diede vita anche a una trilogia di tutto rispetto, che però non ebbe mai il successo che si meritava. Ricorda ad esempio che una delle caratteristiche vincenti, a parte il comparto grafico di grande impatto, questo qua tra l'altro era un titolo di lancio, era l'arsenale a disposizione, che presentava un mix molto particolare di armi storiche con armi invece futuristiche, contestualizzate nella realtà alternativa, diciamo post-invasione aliena. Se non lo conoscete ragazzi è un gioco che vi consiglio di recuperare in un modo o nell'altro, purtroppo esiste soltanto per PlayStation 3, non ne sono stati fatti porting o conversioni. E l'ultimo titolo per PlayStation 3 in esclusiva è Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, titolo che non ha bisogno di presentazioni, completo di tutto, libretto di istruzioni, cd di gioco e manualistica varia. Purtroppo ne avevo un'edizione molto più fica con una sovraccopertina cartonata ma che ho rivenduto, quindi per ora mi accontento di questa. Piano piano sto recuperando tantissimo materiale a tema Metal Gear. Il gioco probabilmente non è l'episodio più convincente della serie Solid, però nei piani di Kojima doveva essere il finale della serie e in quanto tale è pieno di fanservice e di citazioni e rimandi al primo Metal Gear a cui sono affezionatissimo. Quindi sebbene sia, diciamo secondo me, qualche gradino sotto rispetto alla prima trilogia, è comunque un gioco che apprezzai tantissimo e mi segnò nel profondo. E ora per finire ragazzi, finalmente svelerò cos'era quella misteriosa e orenda periferica che vi ho tiserato negli ultimi giorni. Complimenti a chi l'ha riconosciuta dicendo che si trattava del microfono per Gamecube perché si tratta proprio di quella periferica per il cubetto viola, ma quello che non sapete è che l'ho presa in bundle con un titolo semplicemente assurdo, ovvero Odama. Questa è la confezione che vede il gioco e la periferica venduti insieme in edizione italianissima, anche con tutte le scritte sul cartone esterno ed era tra l'altro nuova ragazzi, ho dovuto rompere io il sigillo. Questo qua lo apro perché lo voglio assolutamente giocare. E di cosa si tratta Odama? Odama è un gioco di flipper che unisce le meccaniche del pinball a quelle di uno strategico gestionale ambientato nel Giappone feudale. Andiamo con ordine. Allora, sostanzialmente nel gioco la pallina del flipper è l'Odama, che è quest'arma che usano i soldati per sfondare le difese delle fortezze nemiche. Quindi noi sostanzialmente in ogni livello assaliremo le roccaforti dei nostri rivali, contestualizzati poi nel periodo storico del Giappone feudale. Il gioco tra l'altro ragazzi è completo di tutto, ci sono ancora i punti del Nintendo VIP, ancora da grattare, ci sono le istruzioni, cioè il gioco è perfetto. Il gioco era nuovo, ve l'ho detto, l'ho aperto io. Ma come stavo dicendo, alle dinamiche da flipper si aggiungono delle dinamiche gestionali, ovvero dovremo posizionare le truppe sul campo di battaglia e per cambiare la loro disposizione dovremo usare il microfono perché i soldati risponderanno ad alcuni dei nostri comandi vocali. Questo qua è il microfono ragazzi, sono emozionatissimo. È un'idea completamente fuori di testa da pazzi furiosi direbbe qualcuno. Non vedo l'ora di provarla, sarò sincero. Questo qua è il microfono, semplicemente bruttissimo, che poi si andava ad inserire in realtà nello slot della memory card del Gamecube. Non essendoci ancora periferiche wireless, bluetooth eccetera eccetera, bisognava collegare fisicamente queste periferiche alla console e molto spesso venivano utilizzate porte speciali oppure venivano riadattate porte che avevano altre funzioni. In questo caso veniva riutilizzata la porta della memory card. La cosa molto interessante è che solo con Udama all'interno del bundle veniva data anche una clip per inserire sopra il controller il microfono. Questo qua è un pezzettino di plastica che era disponibile solo con Udama. I giochi che sfruttavano il microfono in realtà erano pochissimi. Sicuramente Udama è l'esperimento più particolare che prova a farne un uso quanto più creativo possibile e probabilmente gli dedicherò un video intero perché è uno di quei giochi che vanno esplorati e analizzati a fondo. E questi poracci sono tutti gli acquisti che ho fatto nel periodo di fine luglio inizio agosto e direi che fino a settembre ottobre me ne starò un po' buonino. Mi raccomando fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi acquisti e se anche voi avete investito un po' di danaro all'interno della vostra collezione videogiochi e se avete fatto dei recuperi o anche se avete acquistato dei giochi recenti. Come al solito se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, benvenuti, ciao!